Giovedì 1 ottobre 2020 avrà inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020. Quest'anno la stagione influenzale vedrà un co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2 e pertanto l'obiettivo della campagna diventa duplice, ridurre le complicanze dell'influenza, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19. Il vaccino antinfluenzale sarà offerto gratuitamente a tutti i soggetti di età pari e superiori a 60 anni, bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, soggetti a rischio di età compresa tra i 7 e i 59 anni, familiari di soggetti a rischio, personale di servizi pubblici, adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale sanitario, donne in gravidanza e nel periodo post partum, lavoratori a contatto con animali, bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico, donatori di sangue. Dove vaccinarsi? Si può effettuare la vaccinazione presso il medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, nei centri vaccinali distrittuali. Scendiendo la vaccinazione, fa sapere l'asla di Salerno, il cittadino non protegge soltanto se stesso, ma anche le persone che gli stanno intorno, per le quali contrarre l'influenza potrebbe essere particolarmente pericoloso. Rivolgendosi al proprio medico si riceveranno informazioni chiare e complete sulla malattia influenzale e sulle complicanze che può causare, sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini e sui loro vantaggi in termini di salute. Per informazioni sui centri vaccinali consultare il sito internet www.aslasalerno.it nella sezione vaccinazioni in homepage.